Non sempre capisco bene e capisco tutto. C.D.A. attraverso Corrado Piancastelli. Domanda Dal tuo punto di vista, atemporale ed eterno, come sperimenti e percepisci i velocissimi mutamenti storici che stiamo vivendo? Entità A. Collegherei questa mia risposta alla domanda di prima, perché questa fu una cosa di cui mi occupai le prime volte che cominciai a comunicare, nel senso che inevitabilmente il mio spirito era attratto dalla terra attraverso il medium e la seduta, e quindi, benché io da spirito conoscessi la situazione, l'impatto con la terra invece fu un po' diverso, nel senso che le verifiche dettagliate e analitiche dei cambiamenti che c'erano stati durante la seduta le vivevo attraverso le domande, le osservazioni dei presenti e la possibilità che il medium ci dava e ci dà ancora di osservare direttamente la realtà. In fondo per me c'è un doppio medium, quello fisico dato dal nostro medium reale, e c'è il medium animico, quello di cui devo circondarmi per poter accedere alla terra. Quindi io comunico attraverso un doppio medium, un doppio tramite. Dunque i mutamenti a volte ci sorprendono, a volte ci incuriosiscono, a volte vorremmo chiedervi spiegazioni su molte cose. La maggior parte delle risposte comunque io le ottengo attraverso la medianità e attraverso l'osservazione che faccio col mio medium. Non sempre capisco bene e capisco tutto, ma non importa. Talvolta si tratta di conoscenze marginali e quindi non fondamentali. Quella che naturalmente è la mutazione storica vera e propria della natura dell'uomo è diventata poi una verifica diretta, la quale, pur conoscendo la media evolutiva, è una cosa completamente diversa. Ovviamente lo spirito che si incarna, la verifica diretta, la fa vivendo con una esperienza che è finalizzata. Quindi una incarnazione volta ad uno scopo. La stessa cosa ho dovuto fare io. In realtà il tempo in cui sono stato e continuo a stare insieme a voi e dal medium rappresenta per me anche una esperienza. E già dissi che non si tratta soltanto di una esperienza che trasferisco a voi, ma anche di una esperienza che faccio io. dunque anche io mi arricchisco da questa specialissima incarnazione quale è stata ed è questa mia presenza, che non è soltanto di guida del medium, perché le guide normalmente tacciono agli altri uomini, ma di una guida partecipativa, poiché appunto partecipa all'evoluzione e modella e suggerisce l'evoluzione, in quanto che la mia presenza ha costituito e costituisce uno stimolo evolutivo per tutti quelli che incontrano le nostre lezioni, le nostre conversazioni, la nostra dottrina. In questa maniera noi ci rendiamo conto, io personalmente, poiché la domanda è specifica, delle mutazioni che sono intervenute dall'epoca in cui sono vissuto l'ultima volta ad oggi.